Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Metta in scena un buon autore, faccia agire un grande attore e vedrà che la crisi passerà La crisi, oh signora, la crisi Ma cos'è questa crisi? Ben trovati da Salvatore, benvenuti nella piazzetta di Delta TV, nello spazio di investimenti e Basilea Prosegue la nostra carrellata, il nostro commento alle note dell'economia della Puglia presentata dalla Banca d'Italia, della filiale di Bari Vediamo subito quindi la grafica, ringrazio con l'occasione dalla regia il nostro amico Michele Didone Oggi parleremo di intermediazione, intermediazione finanziaria La vedremo guardando un po' quello che è il mercato del credito e poi ovviamente parleremo di raccolta e risparmio finanziario sempre della regione Puglia Nell'ambito del mercato del credito abbiamo tre aspetti che vedremo quindi il finanziamento dell'economia e anche la qualità del credito Partiamo subito con quelli che sono i prestiti bancari poi parleremo del credito alle famiglie consumatrici e infine poi il credito alle imprese Vediamo che cosa ha preparato la filiale di Bari sui prestiti bancari Ovviamente i prestiti bancari hanno un andamento in rosso Questo è un grafico che ci dà la dimensione trimestrale dell'andamento dei prestiti C'era stato un aumento dei prestiti nel 2011 invece poi stranamente nel 2012 si è avuto un ribasso che si è accentuato anche nel 2013 quindi è un andamento al ribasso Questa minore erogazione dei prestiti bancari sia alle imprese che alle famiglie ha interessato non solo le banche piccole ma anche le banche più importanti i cinque gruppi nazionali che sono presenti nella nostra regione In particolare, quindi torniamo in studio In particolare se c'è stato un miglior andamento chiedo scusa, dei prestiti a livello totale rispetto al mezzogiorno e all'Italia è anche dovuto al fatto che nella nostra regione c'è stato un maggior apporto dei prestiti alle imprese quindi torniamo sulla grafica per parlare poi del credito alle famiglie consumatrici Qui abbiamo preso questa tabella dalla relazione della Banca d'Italia per mostrare un aspetto importante per la prima volta si è avuto una riduzione del credito alle famiglie consumatrici infatti vediamo questo meno 0,2 che abbiamo evidenziato per voi dalla tabella rispetto poi invece ad un andamento molto positivo del 2011 dove i prestiti nell'anno 2011, a dicembre 2011 risultavano essere positivi del più 3,6% quindi c'è stata una riduzione dei prestiti del credito anche alle famiglie ciò ha riguardato anche ovviamente le erogazioni per i mutui infatti questi sono miliardi di mutui quindi avevamo il picco negli anni precedenti nel 2007 che superava i 2,5 miliardi di erogazioni per i mutui mentre nel 2012 vediamo che sfiora a malapena il miliardo di euro le barre diciamo di questo istogramma stanno a indicare in azzurro quelle che sono le erogazioni a tasso variabile mentre nel colore più scuro abbiamo le erogazioni a tasso fisso quindi in proporzione c'è stata una riduzione ed è evidente dal 2011 al 2012 in proporzione però le famiglie hanno pensato di più ad utilizzare i mutui a tasso fisso un altro aspetto importante da evidenziare è che questo andamento dei mutui rispetto al 2007 che è stato il picco si è quasi dimezzato quindi ha avuto una riduzione del 50% dal 2007 al 2012 ovviamente ci sono anche delle anomalie su quelli che sono i nuovi mutui qui infatti il grafico, la tabella, l'istogramma ci mette in evidenza quelli che sono i mutui erogati da meno di 3 anni che sono andati in sofferenza vediamo che quelli che hanno avuto maggiori problemi sono proprio i mutui a tasso variabile in effetti forse nel 2012 c'è stato anche un incremento di quello che era la rata del mutuo dovuto allo spread che era, chiedo scusa, al tasso orribor che era salito un aspetto importante, ci fermiamo quindi sempre su questo grafico da evidenziare è che ci sono nella nostra regione meno mutui a tasso importante voglio dire di importo rilevante che supera i 150.000 euro quindi c'è stata una maggiore attenzione da parte delle famiglie nell'acquisto dei mutui o anche questa riduzione dovuta al fatto che ovviamente ci sono anche meno offerte e meno proposte di acquisto torniamo quindi in studio, adesso dopo aver visto i prestiti alle famiglie consumatrici parleremo del credito alle imprese quindi vediamo insieme, partiamo nuovamente con la grafica vediamo che il credito delle imprese è anche in flessione del 0,3% quindi questo è il dato al dicembre 2012 anche qui c'era un andamento importante 3,1% nell'anno precedente e vediamo che a soffrire in maniera particolare tra le imprese sono le imprese manufatturiere perché hanno un ribasso dell'1,5% anche quelle dei servizi sono in ribasso del meno 2,1% è un andamento positivo rispetto alle costruzioni più 0,8% ma in realtà i settori che vanno meglio, che sono stati meglio finanziati o più finanziati se vogliamo nell'anno 2012 sono quelli che riguardano il settore primario quello del comparto estrattivo e quello energetico ovviamente il momento è particolare per cui diciamo che le imprese dall'indagine della nota economica della Banca d'Italia e delle filiali di Bari si rileva che il 44,2% delle imprese ha cercato di aumentare il debito nel 2012 e metà delle imprese ha anche decurtato i propri programmi di investimento per ridurre l'indebitamento vediamo invece quali sono i tassi, l'andamento dei tassi vediamo che sull'andamento dei tassi c'era stato prima un incremento queste sono sempre rilevazioni trimestrali poi c'è stata una riduzione quindi il tasso medio è intorno a 7,1% torniamo in studio dopo aver valutato diciamo quello che è il finanziamento dell'economia vediamo un po' in generale qual è la qualità del credito quindi torniamo sulla nostra grafica quindi stiamo sempre parlando di quello che sono le note dell'economia il mercato del credito abbiamo visto il finanziamento quindi abbiamo parlato dei prestiti abbiamo parlato delle famiglie consumatrici e dei crediti alle imprese vediamo qual è la qualità del credito ovviamente sono aumentate le sofferenze sia sui prestiti siamo arrivati a livelli diciamo importanti e questa difficoltà riguarda diciamo una media importante non solo le imprese ma anche le famiglie e questo aumento è un aumento superiore a quello che è la media nazionale anche se inferiore a quello del mezzogiorno questo è anche il deterioramento quindi alle imprese che abbiamo le imprese in difficoltà sono aumentate quindi abbiamo questo andamento dell'indice che ci indica come siano peggiorati i crediti è dato da questo indicatore anche un deterioramento nel credito alle famiglie torniamo quindi al nostro aspetto iniziale abbiamo visto che oggi parlavamo quindi di economia internazione finanziaria abbiamo visto l'aspetto del mercato del credito adesso qualche battuta su quella che è la raccolta ossia l'andamento delle banche su quello che è il risparmio delle imprese delle famiglie della nostra regione parlando della raccolta vediamo che sono andati molto bene i depositi bancari infatti c'è stato un incremento di quello che è l'andamento dei depositi bancari sembra che le famiglie le abbiano preferite è stato più 4,9% rispetto al 1,3% del 2011 in realtà poi diciamo c'è stata una ricomposizione anche la raccolta dei depositi bancari torniamo poi in studio per fare una considerazione la raccolta quindi dei depositi bancari sono un elemento importante per stabilire diciamo se il mondo finanziario quindi le banche riescono ad approvvigionarsi a costi più bassi quindi questo aumento dei depositi bancari sembra che nella nostra regione ci sia ritornato un po' di stabilità quindi ciò ha migliorato il prezzo pagato dalle banche sulla raccolta, sul reperimento dei fondi vediamo invece poi un'altra grafica quindi questo discorso della raccolta dei depositi bancari non solo ha riguardato le altre banche del territorio ma anche i primi 5 gruppi nazionali perché sembrava che le banche locali fossero più in grado di reperire diciamo depositi bancari ma in realtà poi anche i primi 5 gruppi nazionali nel finire, nei primi mesi dell'anno 2013 hanno avuto questo incremento ma l'aspetto importante è capire anche come la dinamica delle ricchezze, del patrimonio posseduto dalle famiglie, dalle imprese della regione Puglia si siano modificate c'è una ricomposizione infatti questi due diagrammi a torta indicano nel 62,8% quelli che sono i depositi bancari nel 2011 nel 2012 abbiamo avuto un incremento infatti siamo al 63,7% si sono anche incrementati le quote dei fondi comuni delle OCR organi di investimento collettivo del risparmio da 16,3% a 16,5% qui diciamo non lo vediamo però c'è una riduzione invece dell'andamento delle gestioni patrimoniali a riguardo, quindi torniamo in studio prima di chiudere a riguardo c'è da considerare che nel 2012 si è verificato un'importante modifica dell'aspetto fiscale delle attività finanziarie per cui c'erano ad esempio delle attività che avevano un'aliquota inferiore che è stata portata a livelli più alti in genere adesso si parla di un'aliquota fiscale del 20% tranne per gli strumenti governativi quindi mi ferisco ai titoli di Stato o anche a strumenti emessi da organismi sovranazionali un altro aspetto importante è che forse causerà una riduzione di quelle che sono le attuali attività detenute nelle gestioni patrimoniali è l'introduzione di un'imposta quindi l'IVA sulle gestioni patrimoniali che per i risparmiatori non è una cosa diciamo abituale per cui molto probabilmente ci sarà anche una ricomposizione e soprattutto questi investitori andranno alla ricerca magari di strumenti simili o che diano gli stessi servizi se non una maggiore personalizzazione rispetto alle gestioni patrimoniali ovviamente senza dover sobbarcarsi il balzello dell'IVA torniamo quindi sulla grafica per le nostre considerazioni finali vi ricordo che il rapporto realizzato dal nucleo economico della Banca d'Italia e della filiale di Bari è possibile scaricarlo appunto sul sito della Banca d'Italia e poi ovviamente ci sono i nostri commenti torniamo in studio semplicemente per dire che è tutto per questa prima parte di investimenti e Basilea è il tempo di un tweet e subito dopo partiamo con il nostro laboratorio finanziario ma cos'è questa crisi ma cos'è questa crisi mangi un sacco di patate non mi sprechi le nottate e vedrà chi la curva